Nel processo Mills, Silvio Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari. Secondo la procura di Milano, Berlusconi ha fatto versare nel 2000 dal manager Fininvest Carlo Bernasconi 600.000 dollari sul conto dell'avvocato inglese David Mills, come ricompensa per averlo protetto con bugie e reticenze davanti ai giudici. Mills è stato chiamato a testimoniare in due processi di Berlusconi, in quello denominato Oliberian, in cui il premier si è salvato dalle accuse di finanziamento illecito e falso in bilancio grazie alla prescrizione e alla depenalizzazione del reato fiscale decisa dal suo governo, e nel processo delle tangenti alla Guardia di Finanza. La testimonianza di Mills, resa nel novembre del 1997, è stata decisiva per l'assoluzione con formula piena di Berlusconi. Ma chi è questo avvocato inglese e come vengono scoperti i 600.000 dollari? David McKenzie Mills ha 67 anni, è figlio di una spia dell'MI5, il servizio segreto inglese. Parla cinque lingue, ha cinque figli, è sposato con Tessa Joel, un ex ministro del governo Blair. Per i PM milanesi è lui l'architetto finanziario che mette in piedi tra il 1989 e il 1996 una rete occulta di 64 società offshore controllate da Fininvest, una galassia sparsa nei paradisi fiscali di tutto il mondo e chiamata All Iberian. Attraverso questo comparto nascosto vengono sottratti dai bilanci Fininvest 884 miliardi di lire, una riserva di fondi neri raccolta grazie al sistema inventato da David Mills, l'uomo che Berlusconi dice di non conoscere. I problemi cominciano nel 2004, quando il commercialista di Mills, Robert Drennan, scopre per caso 600.000 dollari sul conto svizzero del suo cliente. Mills scrive una lettera nella quale gli spiega che quei soldi sono un regalo di Berlusconi, avuto dopo le testimonianze rese ai giudici italiani per averlo tenuto fuori, scrive, da un mare di guai. Così nasce l'inchiesta della Procura di Milano. Durante un interrogatorio davanti ai PM, Mills rilascia questa dichiarazione. Pur non avendo mai detto il falso, ho tentato di proteggere Berlusconi nella massima misura possibile e di mantenere una certa riservatezza sulle operazioni che ho compiuto per lui. Il 30 ottobre 2006 Mills e Berlusconi vengono rinviati a giudizio. Mills è condannato in primo e secondo grado a 4 anni e 6 mesi di carcere. Per i giudici è stato inequivocabilmente corrotto da Berlusconi per mentire in tribunale. Nel 2010 la Cassazione conferma la colpevolezza dell'imputato, pur decretando la prescrizione del reato. Il corrotto è stato quindi condannato. Ma il corruttore? Il processo per Berlusconi si ferma il 4 ottobre del 2008. Tre mesi prima infatti il Parlamento ha approvato il lodo Alfano che sospende i giudizi per le alte cariche dello Stato. Dopo il lodo, giudicato incostituzionale, Berlusconi si tiene lontano dal processo grazie al legittimo impedimento. Dopo un'altra sentenza della Corte Costituzionale riprende il processo. Per arrivare alle sentenze di primo grado potrebbero davvero bastare una manciata di udienze. Potrebbero perché non dipende né dalla Procura né dal Tribunale, ma dall'atteggiamento che la difesa di Silvio Berlusconi. Mancano infatti agli atti del processo le testimonianze di 6 testimoni che dovranno essere ascoltati per rogatori a Londra, 3 in Svizzera e 8 in Italia e poi ci sono i periti che sono l'ultimo tassello prima di arrivare alla discussione. Per i magistrati sarà una corsa contro il tempo perché il reato sarà prescritto nei primi mesi del 2012.